E questo è un creeper Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Mondi di Cubi Allora ragazzi che cosa faremo in questo episodio? Ho passato veramente molto molto tempo in questo edificio per farmare molte ossa, molte archi, molte frecce, molte armature E ma soprattutto molta esperienza per incantare dei picconi E guardate un po' quanti picconi ho incantato Allora ne ho incantato uno che sto usando che ha tocco di velluto in distrutibilità 3 ed efficienza 4 Poi un'efficienza 4, un tocco di velluto più efficienza 4 Un altro tocco di velluto ancora colpo assurdo più efficienza 4 E poi ammirate qua efficienza 4 più fortuna 3, quello che cercavamo E indistruttibilità 3 più fortuna 3 Quindi possiamo ritenerci soddisfatti Sorge un altro problema Allora qua abbiamo già anche un bel po' di armature Guardate qua qua siamo usciti un atterraggio morbido 3 più indistruttibilità più protezione Un migliore in assoluto Comunque qua vedete che stanno veramente cadendo molti scheletri Direi che adesso faremo un altro piccone Ancora uno perché non mi stanchevo mai di fare picconi Intanto poi dopo questo abbiamo finito penso si E l'ultimo che ci possiamo fare poi dobbiamo uscire Ok E tac Un altro tocco di velluto Ok fantastico Beh intanto ci serviranno molti tocchi di velluto Perché? Perché come sto usando questo Vedete ho cominciato a scavare Per farmare della stone E trasformarla di nuovo in mattoni Tanto ogni pezzo di stone si può riportare a mattone E qua appunto creerò tre sezioni Andando avanti Una per le frecce Una per le ossa E una per gli archi Logicamente se ci sarà bisogno potrò crearne altre Quindi adesso ragazzi mi metterò come un pazzo a scavare Sarà veramente una rottura Però ho bisogno di questa Di quest'area Per Diciamo Poter contenere tutte le ossa Non voglio assolutamente fare Come nella scorsa stagione Che avevo ossa e frecce ovunque Non sapevo più dove metterle Quindi Direi che Faccio questo piccolo stacco E ci vediamo tra pochissimo Ok ragazzi Eccoci I lavori qua vanno avanti Come vedete La prima stanza è già stata creata Come vedete Come metteremo un bel po' di casse Qua delle casse trappola Qua delle casse normali Come metteremo delle casse normali Delle casse trappole e mezzo Idem per tre volte Quindi qua il lavoro che farò sarà uguale E l'unica cosa che cambia principalmente O meglio l'unica cosa che mi ha costretto a Diciamo fermarmi un attimino E riprendere a registrare E' stato che voglio fare un'area nuova Ovvero la quarta Non so se avete visto che ho fatto un'area per le incudine Una per gli incantesimi Una per lo storage E adesso ne farò una quarta Anche qua molto utile Che ci servirà Adesso andiamo per tutto a fare lo spazio Allora Facciamo un pochettino di spazio Come al solito Teniamo le stesse misure Ok Pugliamoci tutte le slab Allora Andiamo a sostituire tutto quanto Con il mattone Come abbiamo fatto fino adesso Ok Aspettate che rompo anche qua Oddio stupido mouse Ok Qua Anche qui Apriamo un pochettino Perfetto Anche qua Facciamo giusto un po' di spazio E non voglio fare niente di complesso Ragazzi Ho preparato Ho già il materiale con me Allora Preparo Una piccola zona Così Ok Ok Così E Oddio Ce l'ho altro marmol brick Marmol Oddio Lo chiamerò per sempre marmol brick Lo sappiamo tutti Vero? Sì In realtà si chiamano stone brick Ma non fateci caso Li chiamo così io Ok Qua ho degli slab Che mi servono Anche questi Il piccone Il primo piccone col seed touch Si sta Ci sta lasciando Però ormai non penso Che sia più un problema Avere dei picconi Incantati bene Ormai ho visto che Siamo partiti Quindi per un po' siamo a posto Allora Qua Bisogna Fare ancora un po' di spazio Sì Facciamo ancora un po' di spazio Così va Ok Qua Togliamo Altro Altro slab Ok Guardate qua che c'è L'arancione del legno E E niente Adesso andiamo a mettere I mattoni anche qui Così Perfetto E qua praticamente Cosa voglio fare? Una cosa molto semplice Una cosa che sembra una cavolata Ma in realtà è molto molto utile Una zona Di riposo Ovvero Una zona dove costruirò Qua la crafting table sta abbastanza male Quindi la metterò là Con a fianco un letto Easy Easy Ok Quindi andiamo a mettere La crafting table Andiamo a mettere Una torcia Sulla crafting table E andiamo a mettere Il letto Dov'è il letto? Ah il letto bisogna ancora Craftarlo Ok Perfetto Così Ok Ok Ed ecco qua Il letto Lo mettiamo qua così Ce ne sta un altro qua Mi sa Se andiamo a farne un altro Dai Allora Ho con me delle Cesoie Se non sbaglio Che ho craftato prima Dove le ho rimesse? Ce l'ho elementare Ma non le vedo Me lo sento Eccole qua Ecco Me lo sentivo Allora andiamo a pigliare Ancora Un po' di lana Dalle pecole Che basta cliccare Per chi non lo sa Col tasto destro E si può raccogliere La loro lana Tu mi darai due pezzi di lana Vero? Lo sapevo Grande Così E ne ho tre pezzi giusti Molto 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 bene Allora Andiamo di qui E vediamo Di creare un altro letto Per fare delle cose Asimmetriche Ok Sto ancora pensando Ragazzi Come sfruttare La possibilità di bucare La bedrock Tra l'altro Nell'ultimo video Non ho fatto i saluti Li farò in questo Non li ho fatti Perché erano tre E ho preferito Intanto salterò Probabilmente E Anzi Molte volte salterò Anche perché mi dimenticherò Perché c'è stato un pezzo D'episodio dove Mi ero completamente dimenticato Quasi sono sempre I nostri carissimi scheletri Che però lascio restare Li farmerò poi dopo E possiamo già testare La zona di riposo Andando a dormire Ok Il secondo letto Non so perché L'ho fatto L'ho fatto così tanto per Ok Perfetto Direi che Ci sta Quindi adesso Mi prendo Un altro bel piccone Col siltacce Col siltuc Anzi lo prendo poi dopo E ritorno A lavorare qua sotto Quindi continuo con lo stacco Ci vediamo tra poco Ok ragazzi Rieccoci Ho Diciamo Finito il lavoro Vi faccio anche vedere E Vedete Io arrivo di qua Scendo e giro Perché giro e non vado dritto O comunque non vado di là Perché È studiato Questa costruzione In modo da Restare più vicino Possibile Alla Diciamo al cubo A quello spazio vuoto Dove si spawnano i mostri Infatti Pochi blocchi di distanza Da questo Cioè più o meno di qua C'è il Appunto Dungeon Quindi noi Anche quando noi scenderemo Tipo qua Come adesso A posare della roba Avremmo comunque C'è anche Dello 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 scheletro caricati Se sentite Dei martelli Pneumatici Sopra di me Perché Ci sono ancora I muratori Ragazzi Sopra Sopra casa mia Quindi non ci posso fare niente E Da Tutto il giorno Che vanno avanti Davvero Non li sopporto più E Comunque Ho lasciato Queste due casse qua Perché qui Terremo gli archi Ancora rotti Faccio un esempio Prendo un arco Ancora rotto Lo riparo In questo modo qua E adesso Mi sento pronto Per poterlo portare Di sotto E Anche i pantaloni In questo caso Sono da aggiustare Noi facciamo così Anche se penso Che le armature Finché sono poche Così le teniamo qua Poi il giorno che Sono troppe Le spostiamo Comunque qua Anche quest'arco Lo trasformiamo Lo aggiustiamo Ok E Niente Voglio arrivare ancora una volta Al 30 Voglio fare ancora un ultimo Enchantment E poi Direi che Possiamo dedicarci Al progetto successivo E ovvero Andare un pochettino In neder E farmare minerali Infatti questo episodio Non sarà ancora Un episodio Per la costruzione Della casa Voglio avere tanto Quarzo Per costruire la casa Almeno potrò Creare una casa Molto bella Che bello Si sono messe Dalle martellate Adesso ragazzi Quindi Variano anche un po' I muratori Vedete Sono muratori moderni E Davvero Mi spiace Se l'audio Rimarrà un po' Disturbato Però davvero Non ci posso far nulla E Niente Direi che adesso Vado a posare Ancora queste cose qua Dai Mi manca pochissimo Su Vabbè Vado di sotto Così faccio vedere Che anche mentre sono di sotto Dovrebbe Cadere qualcosa Logicamente Meno Perché sono più Lontano dello spawn Però Comunque qualcosa Dovrebbe continuare a cadere E E forse adesso Gireremo anche un pochettino Per il neder Per vedere se troviamo O non troviamo Qualcosina Allora Qua nessuno vuole cadere Quindi direi che ci mangiamo Un'altra patata Perfetto E Piliamoci Il nostro piccone Con fortuna E I diamanti Cominciamo con i diamanti Andiamo qua fuori Ragazzi Potrei fare un'area apposta Qua fuori Tipo un'area tutta sicura Se potrei farla Più che potrei Dovrei farla Vero? Sì Tipo Io di qua arrivo Una cosa molto Easy Di qua Ok Un'area molto piccola Non deve essere enorme Ok E beh magari la facciamo poi Nel prossimo episodio Per bene Però Giusto da dare l'idea E ricordarmi Che qua ci va un'area Per il raffinamento Dei minerali Ok E quindi Poi mettiamo il nostro Diamante Adesso arriva un creeper Me lo sento Fa scoprire il diamante E io Muoio di Di sclero Ok E cominciamo Opla Guardate lì Diamanti Che bello Ah Che bello Ragazzi Che bello Quanti sono? 14 Alleluia E abbiamo già 16 diamanti Così possiamo già stare tranquilli Ok Adesso procediamo con i lapislazzuli Molto bene Logicamente non rimarrà così E vi ripeto Lo aggiusterò ancora un pochettino Perché così È abbastanza penoso Potrei tipo farlo Probabilmente devo tenere un materiale Che non si riesca a rompere Col piccone facilmente Tipo potrei usare la sabbia rossa Che è stata aggiunta Nella mesa Che è qua vicino E potrei usare quella lì Potrebbe già essere una buona idea Comunque di qua Arrivo Qua ho un altro Punto da tre No Uno Due Tre Quattro Quindi mi devo allargare ancora di uno per lato Giusto per tenere La simmetria Ok Ok Di nuovo nel frattempo ancora trapano Per chi interessa Visto che Ormai Stiamo facendo la telecronaca Ok Perfetto Logicamente poi metterò un muretto intorno In modo da non avere Dei possibili creeper O qualcosa Che Rischi di Danneggiare i nostri minerali Ok Però penso che l'area dovrà essere più grossa Questo che è l'unico problema Penso di sì Quindi devo allargarla ancora di uno Eh sì perché spesso abbiamo stacche e stacche di minerali da raffinare Mi ricordo nella scorsa stagione che Uscivano dalle caverne con delle quantità impressionanti Adesso si sono messi a fare trapano e martelli insieme ragazzi È una cosa meravigliosa Eh no penso che Se continuo così faccio un piccolo stacco Perché altrimenti Diventa noioso No no ma ci hanno preso gusto Ci hanno preso gusto ragazzi State tranquilli che Qua continuano per un bel po' Me lo sento Allora Allarghiamoci ancora un pochettino Anche da questo lato Ok Se direi che così Già potrebbe bastare Anche se so che la allargerò ancora Vero sì Voglio allargarla ancora Voglio avere tanto spazio Per i miei minerali Ok E comunque Adesso stavo dicendo che Raffiniamo i lapislazzuli Che ricordo che In questa Questa serie Siamo riusciti a trovare Uno scopo i lapislazzuli Siamo i primi Nel mondo In Italia No scherzo No però i lapislazzuli Sono famosi per essere Abbastanza inutili E A meno io personalmente Li ho usati veramente poco Nella scorsa serie Li ho usati solo per vantarmi Che ne avevo tanti E basta Li ne ho vantati alcuni Cavolo E Si sono leggermente Pieno zeppo Di ste cose Cavolo 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 Eh beh farò un paio di viaggi Poi dopo Adesso procediamo con la redstone La redstone Scusate se riesco a parlare Ah siamo lo stesso Abbastanza vicino Da continuare a far spawnare Dei tizi Bene 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 Però Devo anche andare a posare la roba Perché Quando uno è pieno così Deve Sempre andare a scaricare Oddio Mi sa che Se continuo ad essere così noiosa La situazione Farò un piccolo stacco Ah a proposito Avevo 30 livelli Qui dovevo incantare Così incantiamo Un piccone Si me lo incantiamo un po' di dopo Perché prima Ah qua c'è ancora un lapislazzolo Forever alone Ok Devo buttare qualcosa Non ce la faccio più ragazzi Cosa butto Niente Butto un attimo queste ossa qua E poi vado Devo fare un paio di viaggi così Eh si Non ci posso fare niente Posiamo I lapislazzoli Andiamo di qua Prendiamo La nostra I semi Non li voglio assolutamente Scusami eh Allora andiamo di qui Piazziamo la redstone Che vi ricordo che la redstone Anche se è allo stato grezzo Può essere utilizzata lo stesso Per alcune cose Esempio Se io ci clicco vicino Col destro Col sinistro Vedete che si illumina Tipo io ci salgo sopra E tac Si illumina Vedete tac Non so se si vede molto Però Tic Tic Vedete che si accende Vabbè è particolare questa funzione Si può applicare Anche per il redstone O cose così Magari una trappola Nelle caverne Anzi sicuramente Per una trappola Nelle caverne Si può utilizzare Eh si Penso che sia la migliore idea Per una trappola Nelle caverne Perché se ci metto Un blocco di diamide vicino E ci passo a fianco Logicamente con un impianticino adeguato Riesco a fare delle cose carine Ho appena avuto una strategia Di quelle Epiche delle mie Ok Qua nel frattempo Continuiamo a raccogliere redstone Abbiamo già un più di uno stack Penso più di due stack Addirittura Ok Posiamola qua Prendiamoci anche le ossa Oddio Si fa anche notte Tra l'altro Quindi andremo a dormire Ok Si abbiamo lavorato molto A quest'area In questo episodio Ho visto che La portiamo molto molto avanti Lo pensate Quando poi rifaremo La nostra ender farm La farm degli enderman Cosa potremmo farci Ci costeremo praticamente Un'altra casa là Si perché comunque Qui abbiamo bisogno Di una casa in effetti Anzi a proposito Appena sbloccherò Sbloccherò Tra virgolette Troverò le carote Farò piantagioni di carote Ovunque Perché sono il cibo Migliore che c'è A proposito di cibo Infatti devo andarne Prendere altro Direi ragazzi Che mi vedo costretto A fare un piccolo stacco E adesso Raffinerò ancora Il quarzo Che è veramente troppo Per essere registrato E il carbone Che anche lui è troppo Per essere registrato E ci vediamo Tra pochissimo Ok ragazzi Rieccoci Cari simulatori continuano Ma io qua continuo Con il quarzo Che appunto Ho fatto questo piccolo stacco Nella Diciamo nel lavoretto Che sto facendo Per ricordarvi Che il quarzo È il minerale Che dà più Esperienza in assoluto Adesso vi metterò Se sto usando il piccolo giusto Vi metterò a farmarlo Ma perché non mi esce Ah ok Me ne uscivano Pochi pezzi Perfetto E quindi niente ragazzi Vedete qua ho fatto due strati Perché due strati Perché quest'area Non la faremo Come l'avevo concepita poco fa Ma bensì la faremo Con uno strato di slab Di legno E sotto Uno strato di hopper In modo che noi Quando andiamo a fare questi lavori I materiali Che tra virgolette Vengono persi O comunque Non lo possiamo raccogliere Nel nostro inventario E cadono E vanno tutti quanti Raccolti in una cassa unica E si smistano automaticamente Quindi questo impianto Lo faremo sicuramente Perché È molto easy Non ultimamente Così 5 minuti fa Nel frattempo Qua come vedete Sto raccogliendo il quarzo Come un malato Perché ne abbiamo bisogno Abbiamo un po' Siamo già a Uno stack e mezzo E si Continuerò per un bel po' Quindi Direi che Faccio direttamente Uno stack unico Senza fare altre interruzioni E ci ritroviamo Direttamente tra poco Nel nether Prenderò appunto Il piccone in silta Non mi porterò Questo qua Con fortuna E appunto Vi comunicherò I dati Di tutti quanti E Le quantità Di carbone E quarzo Che sono riuscito a prendere E niente ragazzi Poi ricordatemi Che devo fare anche Una farm di Lana Mi è venuta in mente Perché appunto Prima sono passato Dalle pecore Ho tantissime idee in mente Cioè Veramente ho tante Tante idee in mente Però prima Voglio farne altre E per farne altre Ho bisogno di farne altre Quindi il ciclo Diciamo È una cosa infinita E ci metto veramente molto Uh qua nel frattempo Siamo a 35 livelli Non ci ho manco fatto caso Andiamo a incantare Subito 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 Qualcosa E andiamo anche Subito 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 A dormire Allora Incantiamoci Un piccone Quindi piccone Ok Tac E vediamo di andarlo A far diventare Uber power Per favore Non mi portare sfiga Aia Ed è un ottimo piccone Da lavoro Anche se Fa schifo Grazie tante Quindi facciamo una cosa così Sì Questo ce li portiamo dietro E direi che dormo anche Quindi ragazzi Faccio questo Sper ultimo Stacco E ci vediamo Tra pochissimo Ok ragazzi Eccoci Andiamo a fare i saluti Di oggi Un secondo Che sono per Arteon World Marco Mazza Mattia Merlini E Fede 33 Ragazzi Vi faccio vedere Anche un attimino I materiali Guardate quanti ne abbiamo Abbiamo praticamente Riempito tutta la prima colonna Di carbone Man mano Andremo a convertire In blocchi Idem per la redstone Qua ho Semplificato un pochettino L'oro E il ferro Vedete che qua Ho diviso Pepite Lingotti E ho anche fatto Molti cubi Come facevo nella scorsa stagione Questi Le andiamo a mettere qua E qua guardate Abbiamo ottenuto ben 6 stack Quasi 6 stack Di Quarzo Inoltre abbiamo 16 diamanti E il nostro Piccone Diciamo che siamo intorno ai 19 diamanti Niente ragazzi Quindi detto questo Direi che ci vediamo tra poco nel nether Ok ragazzi Eccoci Sto andando dal portale O meglio Sto andando a vedere Principalmente due cose La prima È la sua Ovvero la scritta Che tra poco Sarà da cambiare Perché siamo già arrivati A 550 iscritti E li abbiamo già superati E mi fa veramente piacere Come al solito Ve lo ringraziavi tutti E E niente ragazzi Adesso sto andando A prendere Un piccone Che ho fatto poco fa Con efficienza 3 Sì prenderò questo qua Che è un ottimo piccone Da lavoro Perché voglio cominciare A impostare un minimo Di casa Nel nether E niente ragazzi Comunque Cosa volevo dire Perché ho fatto questo Diciamo intermezzo Nello stacco Perché ho pensato una cosa Invece che fare Un sistema di rail Potremmo Andare semplicemente A cercare dei cavalli Perché in queste pianure Qua i cavalli Si muoverebbero Molto più Con agilità Rispetto alle rail Perché le rail Vi ricordo che fanno Sempre la stessa strada Invece i cavalli Li tra virgolette Pilotiamo noi Qua C'è il solito caricamento Di check che non va Ok Eccoci qui Adesso entriamo appunto Nel nether E E niente Comunque questo Diciamo portale Mi piace Fatto così Ok Vediamo un attimo C'è un po' di lag Come al solito Perfetto Voi se Proprio potete Andatevi a fare un giro D'altra parte Grazie Via Oddio Lag Stai calmo Dai fuori anche te Dalle scatole Perfetto Ok Direi che devo cercare Di impostare appunto Questa Stazioncina Allora Comunque tutto Piazziamo la nostra Crafting table Tra l'altro il portale Si è pure buggato Nello scorso episodio Fale assurdo Comunque Adesso andrò appunto A fare un attimo Una piccola zona Con i nostri Carissimi mattoni La cosa più classica Che c'è E appunto Stando attento Sempre al ghast Eccetera eccetera Sperando di non avere Troppe interruzioni La crafting table Magari riprendiamo Ce la va Che magari qualche ghast Ci spara Spacca ancora tutto E appunto Faccio questo piccolo stacco E ci vediamo tra poco Rieccoci ragazzi E' finita come pensavo Si ho messo la distanza Di rendering massima Però Mi sono spinto Fino alla fine E non ho trovato nulla Se non un mare di lava Qua potremmo creare Una farm Di quelle veramente buone Cioè questo mare di lava Mi serviva Però Mi servirebbe Di più una fortezza Ricordatevi Che qua c'è un mare di lava Perché costruiremo Una di quelle Impianti Veramente enormi Lì Perché Beh poi ve lo spiegherò Perché se no Se ve lo spiego già adesso Evita il tutto il gusto E faremo già un bel impianto Comunque guardate qua Quanti bei minerali Che ci sono Qua ho creato tanti ponti Vi faccio vedere Che ho esplorato Veramente molto Ehm Vado fino alla casa Adesso ragazzi Che ho costruito Infatti ho costruito la casa Mentre ero off camera Più che la casa Ho creato una bozza Di Ehm Postazione Per la protezione del portale E Cos'era Un baby Si un pig zombie Adesso qua mi sono già perso Dio Dove sono Dove devo andare Ho paura No di qua Ok Ehm Ecco vedete qua c'è un altro ponte Che l'ho creato da me E niente ragazzi Non riesco assolutamente A trovare La fortezza Quindi appunto Adesso farò Uno stack of camera Perché guardate quanto quarzo C'è Veramente assurdo Ehm E nel prossimo episodio Mi troverete pieno di quarzo Veramente Però Sarò ancora senza la fortezza Ehm Trorare la fortezza in ender È sempre un po' difficile L'ho notato Però adesso quando la troveremo Troveremo anche le casse insieme Quindi non sarà proprio Una cavolata Qua c'è un'altra scalinata Che ho fatto io Ok Sento anche dei ghast Che sono pronti a spararmi Va a quel paese Maledetto Ti odio Ti odio Come non mai E dai Caricati C'è anche Nel momento di non caricarti Ehm Oddio Mi tocca Premere La solita combinazione Maledetta Ok Ehm Niente Guardate quanto quarzo Che c'è da raccogliere Ma fortezze Come vedete Anche se ho la distanza Di rendering massima Niente Nada ne nada Qua c'è un altro ponte Che ho fatto io Sempre per collegarmi E andare a esplorare Altrove Ma niente Qua altro quarzo Ancora Fuoco Mi brucio il sedere E niente ancora Ehm Qua ancora un altro ponte Altro quarzo Ma niente Vi faccio vedere Che è veramente nulla Adesso sto tornando indietro Con la distanza Di rendering massima Sto anche laggando un pochettino Infatti Perché sto caricando 16 chunk per lato Quindi non è proprio pochissimo E Niente qua Vedete C'è altro quarzo Altra pianura Diciamo Però niente fortezze E Di qua infine Si scenderà E Vi faccio vedere Si tornerà dal portale Nel frattempo Ragazzi Io comincio Ringraziandovi Tutti quanti Come al solito Vi invito a lasciare un like Perché youtube è stronzo A commentare Dirmi Cosa posso fare Per tutta la fortezza Ditemi la vostra E Eccola qua Questa qui E' Diciamo la bozza Per Il portale E Ripeto E' giusto una bozza Infatti Per l'entrata Devo Devo fare Tipo un Mezzo parkour Però almeno Non ci sono i pigmen Dentro che rompono E Niente ragazzi Quindi io adesso tornerò Nell'altro modo Per prendere Dell'altro piccone Perché non so se mi basterà questo E Niente Quindi io come al solito Vi ringrazio Vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti